Buongiorno a tutti, noi siamo il CFU Italia, Comitato Fibromialgici Uniti, siamo qui, siamo un'associazione di ammalati per gli ammalati, siamo qui oggi con un banchetto informativo che potete vedere lì di fronte, dove potete firmare alla nostra petizione popolare per avere il riconoscimento di questa patologia che è stata inserita, è stata riconosciuta come malattia la fibromialgia, ma non è mai stata inserita nell'EA, nei livelli essenziali di assistenza, per cui siamo un po' invisibili, ecco perché in tante città d'Italia, andiamo avanti, il CFU organizza banchetti informativi, flash mob per attirare l'attenzione, perché noi vogliamo uscire dall'invisibilità. E' amore mio grande, amore che mi credi, penseremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterà a tuo fianco fino a che vorrai, ti difendono da tutto, non temere mai. E' amore mio grande, amore che mi credi, penseremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterà a tuo fianco fino a che vorrai, ti difendono da tutto, non temere mai. ci saranno l'uomo precioso e disperato, e ti abbraccerò per darti con te sei. E' amore che mi credi, penseremo contro tutti e resteremo in piedi, penseremo contro tutti e resteremo in piedi, penseremo contro tutti e resteremo in piedi. E' amore che mi credi, penseremo contro tutti e resteremo in piedi, penseremo contro tutti e resteremo in piedi, penseremo contro tutti e resteremo in piedi. E' amore che mi credi, penseremo contro tutti e resteremo in piedi, 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 penseremo contro tutti e resteremo in piedi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.